Sono già otto i frati del Santuario della Verna guariti dal Covid-19. Il focollaio si era acceso lo scorso 25 aprile, una trentina di religiosi positivi e la conseguente chiusura dell'intera struttura proprio alla vigilia della ripartenza della foresteria. Tra i frati contagiati anche due particolarmente anziani che avevano già ricevuto il vaccino. Il virus sarebbe riuscito ad insinuarsi all'interno del santuario tramite un novizio che si era sottoposto ad un intervento chirurgico in una struttura sanitaria. Adesso, dopo giorni di preoccupazione, le prime negativizzazioni e si inizia così a pensare alla sanificazione e alla riapertura il prima possibile. Nel frattempo proseguono comunque i tamponi di verifica anche per tutti gli altri frati. Sempre in Casentino, purtroppo, ieri è arrivata un'altra notizia che è stato preoccupazione nella vallata. Sono infatti risultati positivi alcuni ospiti della casa di riposo di Bibbiena Santa Maria Goretti che avevano già ricevuto il vaccino. Una situazione attenzionata dall'Asla e dal primo cittadino Filippo Vagnoli che l'ha definita comunque sotto controllo. Grazie a tutti.